Iha ragazzi bentornati e ben ritrovati sul mio canale io sono magnus eccoci qua vuole curiosare attenzione il lungomare ovest è temporaneamente chiuso contiamo di riaprirlo al pubblico al più presto va bene ok ma quanta gente che corba quindi qua anche qui possiamo fare maleducati tac ci abbiamo dato un calcio in cuo alla signora ah bello questo mi piace ancora di più perché questo praticamente non solo mina con le mani ma anche con i piedi oh mi scusi signora cosa? volevo ok quindi ah ragazzo è atletico però fa un pezzo altissimo ok quindi praticamente qui non ho capito bene se dobbiamo io sto seguendo questa pista ma non ho capito se dobbiamo seguire magari possiamo entrare qui abbiamo un passo universale grey ci passi in mezzo ci passo in mezzo ah aspetta i personaggi esili come possono passare attraverso l'accesso per esplorare nuove aree ah ok vabbè lui tu sei magrolino e quindi ti infili come un topolino ah eccolo qua perfetto quindi qua dentro cos'è che devi fare che è un tasto? non è un tasto? bravo ricordate che le girosfere non sono degli autoscontri ok proprio da galera praticamente questo sta entrando abusivamente ok qui che fai salti e saltiamo insieme saltiamo insieme e ci appendiamo ah ecco ok perfetto quindi io mi appendo tu mi appendi eh infatti ma visto che siete qui avete idea di come rimettere insieme questo affare? certo davvero? potreste aver salvato il vecchio Bernie? veramente cioè lui praticamente che cos'è? un ingegnere mancato? aspetta se lo dice lui magari facciamo fare il passo a lui lo vedo un pochettino più da grande quindi magari allora vediamo un po' mettiamo questo perché abbiamo bestialissimo eccolo qua esatto è così grazie mille ragazzi non mica siamo qui a pestinare le bambole noi utilizza questa piattaforma consegna dinosauri per selezionare i dinosauri ok però che ho fatto? abbiamo un po' allora abbiamo un pochettino di andare da qua qui è un tipo manesco quindi attenzione non mi non mi fate trovare davanti ok quindi provo con lui il ragazzo ok perfetto ah in un'arena che facciamo aspetta vediamo un po' come lui che ci dice gli oggetti decocrepati possono essere risulti dalla carica di un dinosauro ok ti pregunto la X per far caricare un dinosauro perfetto basta ah eh che bella testolina ci abbiamo una testolina dura ok praticamente possiamo rompere in maniera facile mettiamoci qua aspetta non so se no no non l'abbiamo rotto attendiamo un po' di rincorsa vediamo vai vai sicuramente state pensando che male ma con quel cranio il nostro pacicepolosaurus non ha sentito alcun dolore eh lo dice io non credo infatti secondo me c'è anche un pochettino tipo caschetto l'induttura lo vedo abbastanza eccolo qua agile e là aspetta qui non abbiamo praticamente niente vediamo se lo vediamo questo vabbè qua ci siamo passati attraverso quindi questo aspetta allo stato brano il pacicepolosaurus ha fatto i suoi simili per contendersi il territorio ah ah basta attenzione aspetta aspetta non preoccupatevi non si è fatto niente sì ma secondo me non è che mi conosci molto bene e questo è tutto amici grazie per l'attenzione and the winner is il lungomare ovest è riaperto al pubblico ricordate il gelato è per gli umani non per i dinosauri le girosfere possiamo salire sulle girosfere ah ok quindi bisogna salire sulle girosfere almeno lui ci vuole andare perfetto quindi seguiamo la direzione e vediamo che facciamo non credo ci buttiamo in acqua o perché vedo abbastanza lontano da qui aspetta aspetta ah quanti uomini che corrono il ragazzo comunque è in gamba è perché ah guarda qua che fa bellissimo è fantastico fa anche il salto con caprole no non me lo fai più perché non me lo fai più pensavo che si parla grazie di aver atteso mentre pulivamo potete divertirvi la prossima volta che l'aila è via coprilo tu non offrirmi al posto suo dove sta questa cosa della girosfera aspetta ci siamo quasi ci siamo qua no non è qua questo è il t-rex aspetta e vediamo un pochettino se sta da questa parte perché il percorso dovrebbe essere qua vediamo di qua vediamo da questa parte no vabbè comunque la direzione è questa ok lui dice di andare di qua per cui ecco ci arrivati a destination no aspetta ah si sta già arrivando un tecnico spero oh cavolo è il mio primo giorno e mi licenzieranno la pista della girosfera è rotta e nessuno vada a giustarla avrei dovuto fare il giardiniere come lavoro estivo guarda qui guarda io sono bravissimo vedi vado a dare calci un paio di di avvitatine tac 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 ce l'avete fatta non mi licenzieranno non per questo almeno grazie mille tutto bene gente l'escursione è aperta finalmente era ora è visto è tu che ti lamentavi vuole notizie non dovrebbe mancare molto Emma promettimi che non ti spaventare oh scusi lascia che ti dia un consiglio usate per manovare una girosfera premia per saltare ok in pratica dobbiamo entrare in una girosfera ecco qua goditi l'escursione e non inseguire gli animali ok possiamo già entrare di qua ok oh bellino ma possiamo andare dove vogliamo oppure aspetta un pochettino no 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 noi possiamo andare dove vogliamo ehi pss visto che mi hai aiutato ti svelerò un grande segreto ci sono delle piattaforme speciali e se ci parcheggi sopra la girosfera puoi aprire delle scorciatoie per il parco forte vero? ma si ma si aspetta vediamo cosa dice possiamo anche aspetta un po' usare per spostare la girosfera su un pad girosfera vabbè girosfera e controllare gli oggetti ligo va bene ok ma voglio capire lui cosa dice ma no DNA sta per domandate e noi aiutiamo vabbè ok dove noi sarei io aspetta è perché volevo attra allora stai incominciando a vedere un pochettino di difficoltà ah ok sono quelle cose che ti fanno questi ci attaccano no sono bravi no sono bravi ragazzi sono io esistono anche delle altre piattaforme che se usate lanciano in aria la girosfera ricorda che è un grande segreto non raccontarlo a nessuno un attimo controllano questi canali radio sì certo marty sì però me l'hai detto no hablo espanol sono un pochettino in ritardo ok vabbè che stiamo seguendo la linea vediamo un pochettino qua attieni scusi signora ops mi hai scaraventato qui c'è qualcosa che secondo me dobbiamo utilizzare qua abbiamo appunto lancio ok allora aspettiamo un po' perché secondo me qua riesce a saltare no allora aspetta aspetta rientriamo un'altra volta nella bowl allora e noi vediamo prima qua bellissimo ok perfetto ah no forse se riusciamo da qui come prima ah ecco ah eccolo qua infatti avevo detto io e adesso ci abbiamo la base per saltare pensavo avessimo rotto qualcosa fuori strada ci hanno detto che dobbiamo tornare visto non c'è di che un incontro dal vivo con quattro dinosauri anch'io saurus non dovremmo essere qui e ci sono cinque dinosauri ok è bella sta cosa praticamente il figlio è più responsabile del padre quindi magari è meglio a pilotare questo ci prende aspetta aia attenzione prego a scanzo passare di qui in autosac e ormai è troppo tardi quindi passiamo di qua siamo arrivati spasciando mezzo parco è tipo ha ragione anche perché sta arrivati distruggendo l'impossibile possibile e permesso guarda sacco sono impegnato amico giustamente ha raggiunto ragazzi si vede a più adrenalina dov'è andato? eh ce l'hai sopra ma meno male si è distratto sta andando alla ricerca di altre cose ma anche no lo vedo proprio lateralmente da qui no appunto oh dai ragazzi che siete ops mi sa che fai una brutta figlia amico eh guarda che ce l'hai proprio dietro molto dietro fai subito tutto bene non riesco a uscire da qui dovremmo aiutare l'anchilosaurus potrebbe sconfiggere l'altro sei tu l'esperto qui ok ragazzi ci troviamo veramente in una bruttissima situazione come vedete da questa parte c'è il nostro dinosauro che non so se sta giocando o una manifestazione d'amore comunque spero come sempre che questo video vi sia piaciuto ci siamo divertiti in una bellissima fuga spero come sempre che vi sia piaciuto non mi dimenticate sempre di commentare non mi dimenticate sempre di mettere mi piace noi ci vediamo sempre al prossimo video e bye bye